Ciao Patrick, come stai? Mi manchi tanto, ci manchi tanto a tutti quanti, a tutta la famiglia, a Leone, a tua dolce Sara, da tanto tempo che non ci vediamo, comunque sei in casa con noi perché la tv è accesa 24 ore su 24 ore, ti saluta tanto Leoncino, sai qual è il nostro segreto, facciamo questo, forza Patrick, facciamo tanto il tipo, forza forza. Noi stiamo tutti bene, non devi preoccuparti per noi, ti vorrei abbracciare tanto, ti mando un grande abbraccio, ti voglio tanto bene, ti abbracciano tutti quanti, tuo papà, la Romina, Alex, Leoncino, Sara, ti voglio bene, ti mando un grosso bacio, ciao tesoro. Ti voglio bene, ciao papà, ciao Romina, ciao a tutti, ciao a Sara, ciao a tutti e state bene, riguardatevi, tutti quanti, tutta l'Italia, tutto il mondo. Hai una bella mamma Patrick. Lei è mia mamma, è bravissima. Hai imparato da lei a disegnare tu? Sì, 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 perché mio padre è musicista in realtà, però mi ha messo a studiare musica solo con il libro del solfeggio quando avevo quattro anni e non l'ho trovato. E da allora hai odiato la musica. E quindi mia madre mi ha insegnato a disegnare che era divertente. E quindi mia madre mi ha insegnato a disegnare che era divertente.